Due episodi di violenza distinti ieri nelle carceri di Pescara e Chieti ripropongono il tema delle condizioni critiche all'interno degli istituti di pena, in particolare nel periodo estivo. L'allarme dei sindacati di polizia penitenziaria che parlano di situazione insostenibile. A Chieti rissa tra detenuti magrebini ed italiani. Ad avere la peggio un agente di custodia colpito con un pugno è stato costretto a ricovero in ospedale. Lo scorso 15 luglio, sempre a Chieti, un'altra aggressione, questa volta vittima, una gente donna costretta a una prognosi di 15 giorni. La cassa circondariale di Chieti scrive in una nota a Giuseppe Nino, segretario per l'Abruzzo del Zappe, a trattamento intensificato una capienza di 90 detenuti e oggi ne contiene 140 circa. L'amministrazione penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise continua a inviare detenuti fascinerosi e violenti, spesso psichiatrici e che nulla hanno a che fare con il trattamento intensificato. A Pescara invece un detenuto albanese, dopo aver avuto un colloquio, ha tentato di dare fuoco alla socella e non contento, aggredito con una testata un agente che era intervenuto. Quest'ultimo ha riportato un trauma cranico e intossicazione da monossido di carbonio con una prognosi di 10 giorni. Una situazione resa ancora più grave dal sovraffollamento al carcere di San Donato, scrive in una nota il segretario provinciale di OSAP Giovanni Calzone, che vede il numero dei detenuti quasi circa il doppio della capienza massima, mentre a fronte di un numero di massimo sette detenuti nel reparto psichiatrico ce ne sono molti di più. Sistema carcerario italiano al collasso, non da oggi, nonostante l'annuncio da parte del ministro Nordio di una prossima riforma, gli episodi di violenza si susseguono quasi quotidianamente e a farne maggiormente le spese il personale, spesso esiguo, di polizia penitenziaria.